Qualche giovane dalla Lazio, qualche colpetto qua e là, ma non quelli che i tifosi si aspettano per una Salernitana da primi posti anche in Serie B. Il club Granata si sta muovendo con particolare lentezza sul mercato, anche se le altre non è che stiano facendo molto di più. Oltre al portiere Stracoscia e probabilmente ai giovani Pollace, Filippini e Perea, difficilmente ci saranno volti nuovi nei primi giorni di ritiro a Cascia. Mister Torrente si augura di avere a disposizione quanto meno Jefferson, il brasiliano ex Latina e Livorno, che in passato ha segnato con buona frequenza in cadetteria. Cosa cerca la Salernitana? Un portiere, due difensori, almeno due esterni, un centrocampista e un attaccante importante da affiancare a Khalil. Nome caldo per la difesa nelle ultime ore è quello di Borghese, che Torrente ha già allenato a Gubbio e poi a Bari. La manna tra i pali è sempre il giocatore che il tecnico vorrebbe, in uscita invece Fall. Colored, che il club Granata prende dal Barletta, sarà parcheggiato alla Paganese. Paganese che ha fatto sapere di non essere preoccupata più di tanto per la risoluzione del problema relativo al completamento per l'iscrizione al campionato di Lega Pro. I problemi di natura tecnica hanno portato alla presentazione di una documentazione non completa. Il presidente Trapani ha tenuto a precisarlo in una nota. Nei prossimi giorni tutto dovrebbe essere messo a posto. Eccellenza domani è il giorno della presentazione del nuovo staff tecnico del città di Nocera. Per il neonato club rossonero parlerà innanzitutto l'allenatore Pasquale, esposito tecnico navigato, che stranezza del calcio è ex dell'Angri, come ex dell'Angri è Vincenzo Criscuolo, che guiderà anche quest'anno l'altro club delle due Nocera di eccellenza, la storica SG Nocerina Calcio. Insomma, derby in campo, sugli spalti e personalissimo derby anche in panchina per i due allenatori. Grazie a tutti.